Un'ultima cosa, da argentino, segnare nello stadio Diego Armando Maradona, dà qualcosa di più? Col caracco! Non svelare... No, non dico niente! Stai guardando tuo papà, ma non svelare il risultato perché lo svelerà Marco Cattano da voi. Non ho detto niente, caracco! Com'è la domanda? Argentina, stadio Diego Armando Maradona, resta giuntilo tu. Alexander Arnoldo, velocissimo, rimballo, cerca un gran numero ancora! Caraschale, metti mezzo! No, 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 no!